e penso sì sicuramente penso di poterlo, di potermi sbilanciare nel dire che è sicuramente un film molto atteso ossia il film di Fate Stay Night questo lo tagliamo siamo in diretta bene, bene, questo mi fa veramente piacere, un po' paura ma mi fa piacere anche in diretta, guarda, un tipo di scene vabbè, non vi dico nulla sul film perché tanto è stato ben utile, lo sapete visto il responso, l'entusiasmo